buongiorno 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 good morning good morning all the people of scotland ok i have the followers from scotland hello allora buongiorno a tutti gli amici di tutto il mondo soprattutto gli amici della scotland poi su instagram mi seguono anche gli amici della spagna non possiamo dire di quel posto la cataluña che si vuole insomma vuole la sua indipendenza alla scotland che vuole la sua indipendenza ma anche all'italia penso che ci siano ancora delle persone che non sono neurovegetative ma che funziona i loro neuroni dice ciao sabri eccomi ciao ciao carissima aspetta che ti vedo perché se non ti leggo ok ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti allora ciao a tutti le persone che connettono i neuroni ok mi raccomando tenete le connessioni no j6 gaia ciao amore ciao gaia ciao allora gaia è una ragazza stupenda un bacione anche a tuo fratello è che tuo fratello insomma voi siete giovani sarete la new generation la nuova generazione di bambini e ragazzi indaco che salveranno questo mondo questo mondo è in guerra con la pace è in guerra con la democrazia è in guerra con la libertà di pensiero è inutile che lo negate cara società occidentale anche eurasiatica no oceania ed eurasia cioè oceania ma non inteso come oceania australia sapete che il romanzo di george orwell scritto dallo scrittore britannico george orwell 1984 scritto nel 1948 parlava di un futuro distopico ma che si sta avvicinando molto al futuro attuale dove c'è questa società una pseudo società super super organizzata che dice che sta facendo il bene nostro e dell'umanità in realtà sta solo ingrassando i potenti perché anche adesso dietro a tutte queste guerre queste pandemie andiamo a vedere che c'è sempre lo stesso personaggio un certo jen stoltenberg segretario generale della nato ex presidente della norvegia che tra un mandato e l'altro questo jen stoltenberg ha fatto il presidente di gavi allianz la società dei vaccini di bill gates quindi guardate quanti conflitti di interesse perché oggi vi parlo del bis pensiero il bis pensiero non è un termine inventato da me ma è un termine coniato appunto da george orwell fa parte diciamo di queste tecniche che la società adotta per dire che una cosa oggi è bianca buongiorno 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 ciao ciao marica come si chiama scusa marizia marizia ok ciao marizia allora il bis pensiero è una è uno delle tecniche usate e descritte da orwell in 1984 questo romanzo no però è una tecnica anche molto attuale e soprattutto una cosa usata da molti politici anche in questa campagna elettorale che cos'è il bis pensiero la parola bis vuol dire dualità bis quindi oggi vi dico che questo tavolo è bianco e ve lo dico e ve lo affermo domani vi dico che lo stesso tavolo che con tutte le mie forze ho detto che era bianco il tavolo oggi è nero e tu a comando cittadino che ti faccio credere di essere un libero cittadino invece ti impongo di vedere nero un tavolo bianco o di vedere bianco un tavolo nero guardate che sono tecniche di lavaggio del cervello assurde e come posso affermare che oggi il tavolo è bianco e domani il tavolo è nero cancellando ogni riferimento del passato e della storia perché io vi ricordo che molti politici che sostenevano no al green pass no alla vaccinazione no a qui no alla buongiorno a tutti buongiorno 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 usa oggi stanno dicendo io ma io sono atlantista ma io sono a favore del green pass io sono a favore della vaccinazione io non ho mai detto cose così cioè l'esatto contrario di quello che sostenevano mesi fa in realtà ci sarebbe una cosa semplice da fare sapete qual è dire cavolo ho detto cazzate mesi fa adesso mi sono ricreduta ma sarebbe troppo umano troppo diciamo troppo come si può dire ciao elena sarebbe troppo di assomigliarci perché essere umani vuol dire assomigliare agli umani normali allora dato che loro sono sopra noi sono anche sopra dio perché se dio non vi impone delle scelte ma vi lascia libero arbitrio i potenti prepotenti invece vi obbligano a fare le cose ok quindi sono persone che si sono erette si sono messe sopra a dio buongiorno buongiorno a tutti quindi il bis pensiero si può attuare con la cancellazione della storia perché se io fino a sei mesi fa ti dico che putin era buono e bravo bello e ci siamo andati a comprare il gas da putin poi se cancello la storia c'è cancello che personaggi come berlusconi personaggi come letta hanno firmato accordi e si stringevano la mano addirittura quell'altro lo invitava a casa sua al ville in sardegna e si scambiavano il chirurgo plastico ecco per capirci il giorno dopo diceva ma no io ma no ma no io no io no insomma sembrano tutti molto come san pietro ve lo ricordate la storia di san pietro quando gesù fu arrestato ma gesù era uno che ci vedeva bene ci vedeva bene io mi sento un po gesù a volte no perché dico non mi in senso ironico non vi arrabbiate perché a volte dico ma guarda questo qua come mi lecca bene i piedi magari fra due tre mesi mi pugnalerà le spalle e così succede perché tutti quelli che ve leccano il culo troppo dovete di fidare infatti io vi ricordo per usare una diciamo un paragone del vangelo pietro che tutti e la chiesa sostiene che gesù ha lasciato la sua chiesa a pietro io i miei dubbi che una persona come gesù possa aver lasciato la sua chiesa a uno che l'ha rinnegato tre volte alla luce anche di questo papa questo papa che dice che ma no ma è giusto mandare le armi ciao 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 martitai capito secondo me non è mai giusto usare le armi non è mai giusto usare la violenza non è mai giusto parlare con la guerra ma voi con questo bis pensiero buongiorno 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 andrea verona loro con questo bis pensiero andrea ci vogliono fare credere oggi che la guerra è giusta cose che fino a sei mesi fa dicevano che la guerra era sbagliata come adesso ci dicono che bisogna razionare bisogna fare tutto bisogna risparmiare l'acqua e non dobbiamo usare molta acqua no ma se fino a pochi mesi fa diceva dovete lavarvi dovete più lavarvi di più dovete usare più acqua bla 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 poi si contraddicono anche su tante altre cose quindi guardate il bis pensiero no un giorno vi dicono no dobbiamo pensare a fonti di energia rinnovabili ed ecologiche poi quell'altro va a dire beh dai dai ciao 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 ma mari angela mauri e poi vi dicono ma riapriamo le miniere di carbone ma siete impazziti poi vi dicono che dobbiamo spegnere l'aria condizionata però loro possono andare in giro con macchinoni made in germany che hanno tutti la macchina made in germany anche quelle che dicono che sono made in italy poi in realtà sono fatte dall'altra parte del mondo perché anche lì avete fatto una porcata no tra fiat stellantis e compagnia cantanti che andatevi a vedere le quote di autogrill unicredit stellantis eni enel telecom ciao 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 massimo andatevi a vedere a chi appartengono alla norges bank perché in tutto questo delirio tra pandemia e guerra noi siamo diventati sempre più poveri affamati ma la norges bank questa banca norvegese che da febbraio è diventato presidente jans toltenberg l'attuale segretario generale nato che è stato anche presidente tra un mandato e l'altro della norvegia che nel secondo mandato è stato ma certo bravissimo io non voglio andare a votare ma non perché voglio non andare a votare per sempre voglio non andare a votare questo sistema elettorale primo il rosa tellum che vi ricordo che è stato fatto da un esponente di italia viva ci sarebbe tanto da parlare di italia viva però per par condicio parlo di tutti e sbugiardo tutti perché il caro diciamo rappresentante no dell'italia del partito italia viva matteo renzi è stato il primo a usare questa società magica ed è stato il primo a lanciare l'identità digitale tutte ste rotture di cojoni lì usando la mckinsey e la mckinsey non ho capito ma sta meglio modello zelensky no modello giuditta ho detto io no che non so proprio perché questa pagliacciata di mettersi c'è veramente io vorrei chiedere la signora ursula von der leyen dove era sette mesi fa un anno fa dove era dieci sei anni fa sette anni fa otto anni fa perché guardi signora ursula von der leyen che la guerra in ucraina non c'è da oggi c'è da otto anni e soprattutto i dissapori tra diciamo kiev e i russofoni del donbass è una partita vecchia perché c'è addirittura che chi fa risalire perché insomma tirano fuori gli argomenti assurdi facendo risalire questa situazione ai tempi di stalin no con la famosa carestia di stalin però questo revisionismo storico che ripeto revisionismo storico e riscrivere la storia fa parte sempre dei processi descritti in orwell 1984 orwell 1984 parla di questo revisionismo storico c'è che prima un eroe viene trasformato l'eroe viene cancellato perché winston fa questo lavoro in orwell 1984 cancella gli eroi no e cancellando gli eroi ne mette un altro a caso questo altro caso diventa l'eroe di turno e quell'altro che era il vero eroe diventa un traditore perché ripeto se tu non ti adegui immediatamente al bis pensiero cioè oggi noi siamo amici della russia domani dobbiamo diventare nemici della russia un momento dobbiamo volere tutti il vaccino un momento non vogliamo tutti il vaccino un momento dobbiamo stare chiusi in casa un momento ci dobbiamo muovere un momento dobbiamo lavorare un momento dobbiamo stare fermi un momento dobbiamo andare in guerra un momento dobbiamo volere la pace un momento dobbiamo volere diciamo l'ecologia un momento la priorità è un'altra stronzata di turno quello si chiama il bis pensiero facendo questo lavaggio del cervello alle persone con il bis pensiero perché è un lavaggio del cervello e come si può far credere a una persona oggi oggi a quella persona tu li fai credere che è giusto andare in guerra che è giusto odiare la russia è giusto diciamo esiliare i russi è giusto bloccare i beni dei russi è giusto sequestrare le ville dei russi ma fino a sei mesi fa ci dicevate che è bello i russi avere i russi in casa allora come faccio a scrivere tutte queste cose riscrivo la storia riscrivo le notizie riscrivo i twitter riscrivo tutto in modo che io posso dire io io ho sempre sostenuto l'ucraina ed ero contro la russia ma vi ricordo che la signora ursula von der leyen insieme a tutti questi sciroccati che stanno al parlamento europeo fino a gennaio febbraio 2022 non sapevano neanche dove stava l'ucraina sulla carta geografica ma scommetto che non lo sanno neanche adesso perché ripetono a pappagallo il bis pensiero cioè secondo me gli arrivano delle veline a questa gente delle veline dove gli viene diciamo detto oggi devi dire questa cosa le veline arrivano ai politici le veline arrivano ai giornalisti le veline arrivano tutti nei posti dove c'è comunicazione e si devono adeguare al pensiero di quel di quell'istante perché questo parlava della maglia modello zelensky no però io vi ricordo che la signora von der leyen si è messa un taglierino giallo e blu alcune altre esponenti del parlamento europeo si è messo il taglierino giallo e blu e oggi passando davanti ai cartelloni elettorali ho visto delle signore con la giacchetta azzurra capito quella giacchetta azzurra lì non è gialla e azzurra come la comunità europea che sarebbe anche giustificabili sono gialle e azzurre che rappresentano uno stato che non è né nell'unione europea ma neanche nella nato cioè noi stiamo tenendo in piedi questa pagliacciata sull'ucraina di uno stato che non è né nell'unione europea né nella nato ma chi è che vuole a tutti i costi questa guerra facciamo nomi e cognomi perché è giusto fare nomi e cognomi il signor jans toltenberg segretario generale della nato che è anche presidente della norges bank che maneggia tutti i nostri soldi delle società ex siri italiane ed è stato anche ex presidente di gabi alliance dei vaccini con bill gates quindi e culo e camicia con bill gates questo jans toltenberg questo jans toltenberg va alla nato a fare i discorsetti a dire adesso cacciate fuori i soldi per la guerra perché da quando c'è lui dal 2014 vedi che uniamo tutti i punti caro jans toltenberg da quando c'è lui dal 2014 buongiorno buongiorno slovo come stai vuoi venire live e tanto che non viene in live così tanto carino vedete io non riesco a capire come mai le persone devono imitare i loro rappresentanti politici perché io non sto difendendo la russia sto difendendo i russi che diverso non sto difendendo l'ucraina con zeleschi sto difendendo i poveri ucraini che si trovano le bombe in testa quando i loro rappresentanti politici sono in vacanza in italia sotto il sole a sorseggiare champagne allora io mi dico ma la povera gente si vuole svegliare sì o no si vuole svegliare la povera gente o dovete adeguarvi come degli automi al bis pensiero capito vi adeguate sì io non ho capito perché tu affermi questa cosa io invece sai cosa ti dico slava italia posso dire slava italia posso dire slava italia io dico slava italia perché io sono italiana e non devo obbedire al guerra fondaio di turno io dico slava slava italia io sono italiana e voglio la mia italia libera dai guerra fondai dai banchieri dai faccendieri dagli amici di bill gates di stoltenberg e bla 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 quel signore poverino che non è neanche un signore ma è un'intelligenza artificiale che è pagata per diste stronzate non so se lo sapete ci sono anche i social media manager arestovic potrebbe raccontare cose meravigliose vero arestovic un bacione saluto arestovic perché mi sembra l'unico neuro dotato di tutti questi personaggi ok perché tutto il resto è veramente immondizia però lui ci può insegnare la comunicazione e la comunicazione questa il bis pensiero ricco rincoglionisco così tanto la le persone e dico che oggi il tavolo è bianco e oggi il tavolo nero perché intanto le persone non sanno neanche se il tavolo è bianco e nero quindi obbediscono ciecamente agli ordini della tv perché in realtà è la tv che vi fa il lavaggio del cervello no che io ho sentito un signore dice ma perché tu non sei cristiana io sono cristiano a se ne vantava e io gli ho detto scusa ma tu hai letto la bibbia e i vangeli ma non mi fa tanto di leggere dai non mi fare leggere e certo non devi leggere e non devi neanche proferire parola perché secondo sempre un altro concetto orwelliano tu devi ridurre il linguaggio ai minimi termini come si chiama ridurre il linguaggio ai minimi termini come spiegato benissimo in norwell 1984 la neolingua la neolingua è quella lingua che state usando anche voi cerebrolesi che dite ehi oh we 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 si capisce un cazzo scrivete che con la k ehi ma non sai scrivere ciao buongiorno grazie 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 non sai scrivere buongiorno una cosa che io adoro di tutte le persone dell'est che proprio l'antitesi di tutto quello che rappresenta l'american taste l'american taste è ciao come stai che io non lo sopporto non sopporto ve lo dico chiaro e tondo che se vado in un negozio la commessa che ha vent'anni mi dica ciao ma chi ti conosce ma dammi del lei invece una cosa che io adoro dei paesi dell'est ma non è solo del della russia ma anche della serbia della macedonia perché qui ci sono anch'io bocione della macedonia un signore della macedonia dice ma ma lei no ma voi come voi che bello ma c'è ancora qualcuno che usa il voi che bello non siamo non sono da sola questo mondo di cafoni che da tu a tutti date del tuo a ciao e poi avete un'indifferenza verso tutti buongiorno 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 penelope no è vero penelope questa io adoro vi dico sempre buongiorno 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 parte che la parola ciao la uso pochissimo perché nessuno sa l'origine della parola ciao vera volete sapere cosa vuol dire ciao buongiorno 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 antonio ma grazie giovanni sei gentile ecco cosa dice non siamo soli ma certo che non siamo soli ci vogliono fare crede credere come in orwell 1984 che ci sia controllata inutile che volete entrare mi bloccate la live pensando di entrare non vi faccio entrare non vi faccio entrare chi sei chi ti conosce poi uno che si chiama ruota la fortuna non credo la fortuna sai io sono una figlia di enea quindi sono italica e come italica credo come dice il principe di macchiavelli che metà fortuna e metà capacità quindi io credo di più un 70 per cento capacità che prima o poi chi ha voglia di fare arriva dove vuole quello quindi non credo la fortuna non credo ai giochi d'azzardo e tutte queste cagate qua allora che cos'è un'altra cosa che viene utilizzata in orwell 1984 oltre al bis pensiero bravissimo leggo cosa dice marco marco bacione grazie leggo sapete cosa vuol dire ciao ciao servo vostro schiavo allora di che origine la parola ciao tra l'altro anche in vietnamita e io avevo un'amica elementare in australia che in vietnamita diceva ciao ciao questo ciao ok favolosi vietnamiti gente geniale mio sogno sarebbe andare in vietnam quando la finite di fare la guerra potrò finalmente ritornare a viaggiare come si deve saluto tutti gli amici del vietnam che sono stati bombardati con il napalm da la magica america che esporta la democrazia ok allora ciao che l'origine della parola ciao e ciao si usa molto in veneziano che il veneziano è una lingua è il veneziano una lingua come napoletano una lingua sapete perché una lingua il veneziano napoletano perché sono stati scritti dei testi di teatro di prosa in lingua veneziana e in lingua napoletana ecco perché dico che sono italica e non sono italiana io sono un'italica perché io voglio credere in quell'italia bravissimo giovanni l'unico stato leggo cosa dice giovanni l'unico stato che ha lanciato bombe atomiche state gli stati uniti d'america ma se li hai lanciati anche a casa sua lo sapete che il progetto manatta anche il sardo bravissimo stavo finendo bravissimo ditemi tutte le cose la sardegna tra l'altro ragazzi ma lo sapete che c'è un paese in sardegna che ha attuato il mio sogno saluto tutti gli abitanti di quel paese che si chiama ma qualcosa che hanno attuato il mio sogno il mio sogno sociale il mio sogno sociale quello di realizzare una società eco sostenibile che paga pochissime tasse dove vengono ridotte le spese tutti hanno una casa tutti mangiano e tutti hanno un servizio adesso non mi viene in mente quel paese della sardegna ma hanno realizzato il mio sogno però tornando al discorso di ciao ciao vuol dire servo vostro sapete che ancora adesso si dice comandi in veneto no quando uno ti dice ma mi potresti senti scusami e lo ti comandi come dire cosa comandi no perché insito un po in questa mentalità veneziana perché il veneziano una lingua buona giornata paola stavo spiegando che la parola ciao deriva dalla lingua veneziana che vuol dire bacione servo vostro schiavo e io non la uso mai perché io non sono schiava quindi dico buongiorno leggo cosa dice e sanzione agli usa non ne hanno mai fatto certo e come fanno fare sanzioni agli stati uniti che sono gli stessi che ne fanno di tutti i colori leggo cosa dice giorgio la città è massama no a un nome simile a un nome simile una città con la m andatevi a cercare questa questa paese no dove tu puoi avere la casa e pagarla 15 euro al mese no mano mano però se puoi come si può dire se obbligato a costruirla anche tu a dare una mano per costruirla dove gli asili nido costano 12 euro al mese e sapete come hanno attuato tutto questo riducendo le spese di cose inutili tipo i vigili tipo la polizia non sto dicendo che la polizia non è utile ma forse gli eserciti le armi le cose non servono a niente in una società che funziona non abbiamo bisogno dei vigili dei vigilanti perché se tutti sono onesti nessuno ruba e tutti seguono la legge non abbiamo bisogno di chi fa rispettare la legge giusto quindi dovremmo concentrarci no aspetta vuoi che te lo cerco aspetta dai che adesso è troppo dice così tira indovinare maracalonis no ha un nome ho finito con a finisce con a finisce con a finisce con a aspetta adesso perché ho fatto questo l'ho anche ricondiviso aspetta che te lo dico cerco su allora paese sardegna come si può dire senza tasse vediamo se mi dà cose notizie proviamo a cercarlo così proviamo allora figurati se mi scrive qualcosa di bello questo posto comunque c'è un video che io ho condiviso su questa diciamo paese con la m ok vediamo se me lo dice perché c'è il sindaco perché c'è allora tutti andiamo a vivere la non me lo dà figurati se me lo dà comunque c'è questo paese con la m in sardegna dove l'asilo si paga 12 euro dove la casa si paga 15 euro al mese c'è questo è il mio sogno di società perché penso che in una società evoluta e noi nel 2022 non dovremmo pensare alle armi alla guerra alla riduzione del gradi un grado due gradi di diciamo del riscaldamento o la si può dire o ridurre l'energia elettrica nel contatore tra l'altro su questa cosa di ridurre vero che bellissimo tra l'altro su questa cosa di ridurre l'energia elettrica io volevo avvisare enel and company che non lo potete fare e c'è ma ci sarà una legge europea e ma io vi dico che ci sono dei contratti che noi abbiamo firmato si chiamano contratti di fornitura fatevi furbi e cittadini la mossa che faranno loro per essere a posto legalmente sarà sarà farvi firmare un nuovo contratto di erogazione non firmatelo se firmate un nuovo contratto di erogazione dell'energia elettrica siete complici non dovete firmare se loro hanno detto che vi vendono tre quattro cinque un kilowatt quello che cavolo è dividevano dare un kilowatt due kilowatt tre kilowatt ok quindi loro sapete come si stabilisce il prezzo dell'energia elettrica e ne lo fa trimestre società come si chiama società elettrica nazionale lo fa semestre mi sembra ok e grazie carmelo e quindi loro dovrebbero farvi firmare un nuovo contratto enel o con la società che vi fornisce che ne so iren quello che cavolo è ma io ero in gioco un pochino più onesta a torino quindi loro video hanno fatto un contratto ok allora cosa succede ma io vorrei capire questi che vogliono entrare in live chi cavolo siete ma chi siete ma voi entrate nelle live della gente così da maleducati allora il punto è non credete al bis pensiero cioè oggi è bianco domani è nero poi di nuovo nero poi domani bianco fatevi un'opinione ah mi bloccano ah ok ah non l'avevo capito no ma non mi blocca non ti preoccupare tanto sanno che che non ho abbastanza follower loro puntano sulle persone che hanno 30.000 follower ma ci arrivi a quei numeri se fai come dice tiktok io difficilmente faccio come dicono gli altri allora seconda cosa non firmate i contratti se vi vogliono aggiornare il contratto di erogazione di energia elettrica non firmatelo perché perché se tutti ci opponiamo a questa riduzione dell'energia elettrica gli possiamo fare una class action cos'è la class action la class fate tap 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 perché non mi bloccano mi fanno abbassare la live ho capito cosa servono questi qua che vengono perché vogliono farmi abbassare il numero di utenze allora non firmate nuovi contratti di erogazione di energia elettrica quindi non accettate questa cosa perché loro vi diranno che l'europa dice questo ma lo sanno che non possono farlo ridurvi l'energia elettrica e lo vorranno fare con la vostra complicità mandandovi un nuovo contratto che dovrete firmare non firmatelo anzi vi invito se c'è tra di voi qualche avvocato qualche persona intelligente a fare una class action cos'è una class action un bella denuncia ci mettiamo tutti insieme li denunciamo perché ci riducono ci tolgono qualcosa che loro avevano garantito per contratto perché loro per contratto avevano garantito la fornitura di tot kilowatt capito quindi il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi ma se voi stupidelli fate come avete fatto con i vaccini firmate ok fai qualsiasi cosa di me di nuovo siete colpevoli voi ciao 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 sony ok quindi non accettate la conversione del vostro contratto di energia elettrica e c'è ma lui loro poi dicono che te la staccano non possono farlo svegliatevi non possono staccarvi la corrente se pagate ma anche se non pagate lo sapete che devono garantire un minimo capito ma andate a rivedere se non credete a me quindi tutti insieme ci uniamo e facciamo una bella denuncia perché se 60 milioni di abitanti metti anche solo la metà 30 milioni solo un terzo 10 milioni fanno una class action contro enel e compagnia cantanti che sono adesso gestiti da norges bank del signor stoltenberg segretario generale della nato andatevi a vedere tutti i giochini non credete a me andate a vedere su tutte le notizie della norges bank che cosa si è comprata sul sole 24 ore quindi dietro tutto c'è sempre lui c'è sempre lui jen stoltenberg segretario generale della nato c'è sempre lui dietro i vaccini c'è sempre lui dietro questa merdata della guerra e della riduzione dell'energia elettrica ci sei sempre tu jen stoltenberg che sei amico culo e camicia con caro bill gates perché ci hai pure lavorato a casa sua eravate tanti amici sapete cosa ho letto un articolo dove diceva un amore a prima vista tra jen stoltenberg e bill gates siete due delinquentoni ok siete due delinquentoni ma no ma sono dei filantropi e certo siete filantropi come l'onu come l'oms che fanno esperimenti in africa che sterilizzate le donne che fate esperimenti sui bambini che rubate i bambini che violentate uomini e donne in congo siete filantropi voi e tu a casa tua hai permesso pure che facessero due attentati di matrice neonazista io direi ma c'è qualche norvegese che ha voglia di indagare su quegli attentati accaduti durante il secondo mandato da presidente della norvegia di jen stoltenberg volete indagare chi c'è dietro a quegli attentati io vi dico che potete scoprire cose meravigliose del signore jen stoltenberg amico di bill gates ok però dietro a tutto non c'è la magica america perché ormai di americano è rimasto ben poco perché anche gli stati uniti vi garantisco che le banche sono tutte in mano a cing cing cung quell'altro sono in mano a ciu 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 capito quindi di americano è rimasto ben poco anzi qualche segnale positivo arriva proprio dall'america perché in america hanno abbattuto le famose stone sapete quelle pietre li hanno abbattuti in america l'altro giorno grazie grazie paola seguite paola è meravigliosa l'altro giorno bravissima informazione corrotta però le cose si trovano loro le dicono le cose anche sapete dove ci sono tutti i comunicati nel ministero degli interni nel ministero degli esti ci sono i comunicati ma dovete leggere imparare a leggere aprire il cervello dietro le righe prendete la notizia di questi comunicati e andate indagare perché io pensavo ma come nessuno ha parlato che hanno mandato dei militari in mali italiane non è vero c'è tutto scritto i comunicati del ministero degli estri c'è tutto scritto che l'hanno mandato ma questo comunicato non è stato divulgato dalla stampa però loro sono a posto con la coscienza c'è scritto c'è scritto ma siamo noi che siamo abituati a andare a cercare le notizie in tv e nei giornali andate a cercare sui siti senato punto it ministero degli interni ministero degli estri andate a vedere le come si chiamano le news adesso non so come si comunque ci sono tutte no i disclaimer non so come potete chiamare e ci c'è tutto ok quindi il bis pensiero che un giorno vi fanno credere una cosa al giorno vi fanno credere l'altro poi c'è revisionismo storico che cambiano la storia un eroe diventa cattivo il cattivo diventerò insomma te la rigirano perché adesso ci vogliono far credere che i nazisti erano dei patriotti ma come non lo sai che i nazisti erano patriotti quei nazisti patriotti sono venuti anche in italia ci hanno ammazzato i nonni i bisnonni nei campi di concentramento di san sabba e il campo di concentramento di san sabba era un campo di sterminio ammazzavano le persone bruciavano le donne vive a bolzano torturavano le persone sono certo ecco vedi brava è vero questo signore quando dico le cose vuole entrare in live cavolo fate fate tap tap perché vogliono bloccare queste informazioni comunque non credete a me andate a cercare il campo di sterminio di san sabba trieste andate a cercare il boia di bolzano senfer che sotto falso nome ha vissuto in italia tutta la vita e non ha mai pagato l'hanno processato 80 90 anni come hanno fatto con pribche ma il boia di bolzano era ucraino poi tutti questi boia questi assassini ucraini sono tornati a casa e hanno fatto proseliti perché quelli che vedete adesso sono i loro nipotini ma guardate che il nazismo non è finito con la seconda guerra mondiale perché i nazisti cari signori sono scappati in sud america e hanno continuato a fare malefatte nelle dittature sudamericane e queste dittature sudamericane erano protette e foraggiate dagli stati uniti d'america cile argentina e chi ne ha più ne metta e la stessa regina elisabetta che tutti piangono povere morta la regina ha stretto la mano a pinochet è vero spero spero che gli dei ti possano punire spero questo spero questo guarda che ci credi solo tu a queste robe da analfabetta e perché leggo scomplotto ma quale complotto ma apri un libro di storia bravissimo le foibe ma lo sapete con che complicità tito e da chi era protetto hai capito la strega della regina elisabetta io prego per la sua anima spero che la prossima si sia una strega slobo sai perché perché io sono un po ho fatto un'indagine della sua data di nascita lei aveva saturno retrogrado in scorpione ed è tipico di chi in altre vite ha fatto stregonneria io sono un po appassionata di cose karmiche di cose di astrologia karmica cabalistica quindi le vostre cose le so sai però non si può dire e tutti dicono complotto e complotto che i nazisti con la complicità dell'esercito americano sono scappati in sud america è un complotto che l'america l'inghilterra abbia protetto i nazisti che il vaticano abbia fatto documenti falsi nazisti perché andate indagare quanti buongiorno 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 andate indagare quanti nazisti ha protetto il caro vaticano mi sembra che c'era il come si chiama quella cosa dove fanno come dove diventano preti perché c'è un di vuoti allora c'era il seminario di trento che nascondeva i nazisti e li faceva i documenti falsi e loro poi sono scappati in tutto il mondo e in sud america torturavano ma continuavano a torturare anche gli ebrei lo sapete che in argentina adoravano torturare gli ebrei adoravano capito e chi li torturava chi ha insegnato a torturare bene bene in argentina in cile erano ex nazisti che erano scappati dopo la seconda guerra mondiale andate a studiare la storia capito non è gomblotto semi analfabeta che hai un zero follower costruisci queste cose perché questa è tutta propaganda e soprattutto è tutto social media manager di quelle società tipo McKinsey di quelle società assurde la fortuna sapete qual è la mia fortuna che dato che siete una manica di ignorantoni raccomandati una volta avevate nelle vostre file dei personaggi geniali adesso avete i loro figli tutti raccomandati tutti semi analfabeti è vero che hanno la laurea ma chissà come cavolo hanno presa e quindi siete una manica di rincoglioniti ignoranti e questo fa gioca a nostro favore gioca a nostro favore ma loro pensano sempre sempre in visione orwelliana che il proletariato semi analfabeta non vada controllato poi hanno detto forse questi qua si stanno attrezzando nei social e stanno facendo informazione ma noi mandiamo l'intelligenza artificiale in primo in prima linea poi dopo se non la capiscono con i vari blocchi e le censure li mandiamo le persone vere però io vi ricordo che proprio dagli stati uniti che stanno arrivando dei segnali positivi perché abbiamo detto le stone le pietre sono crollate e lo stato del texas ha detto che la censura sui social e contro il primo mandamento quindi la libertà di pensiero e questa è un'altra bella notizia noi siamo una colonia americana ma peccato che non abbiamo le leggi degli stati uniti d'america abbiamo i doveri ma non i diritti seconda bella notizia è che ron de santis che gestisce lo stato della florida adesso non mi viene il termine come si chiama senatore comunque della florida ha detto che se vi becca che chiedete il green pass vi arriva una multa fino a 5 mila dollari altra bella notizia quindi ron dice basta mascherine basta cagate basta governatore grazie mille grazie rd e scuse perché c'ho i vuoti mentali sono anziana e questo vi fa capire che qualche segno che non tutti sono lobotomizzati nel mondo viene fuori perché qualcuno sta dicendo ok andiamo in guerra ci mettiamo la maglietta gialla e azzurra diciamo com'è bello com'è bello stare al freddo perché c'è una pubblicità in germania che si vede la gente che si riunisce tutti coperti con la coperta tutto no da sempre siamo una colonia americana da 77 anni siamo una colonia americana tu pensi che noi abbiamo il diritto di dire no ma queste basi no con le bombe atomiche le togli no perché 77 anni che abbiamo le basi militari allora tu dovresti andare a vedere che cos'è la caserma Ederle è un altro che mi vuole bloccare fate tap tap così questi perché vogliono entrare e così abbassano i follower della live ma non ce la fate la caserma Ederle è una caserma dove nessuno può entrare e dove loro fanno i loro cazzi con i militari e hanno le nostre armi hanno le armi nucleari ficcate a caserma Ederle sigonella ci sono le armi con gli aerei militari militari vium 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 americani e non siamo una colonia americana senza contare quella bella base che c'è a Daviano e quella base a Daviano i militari nel 98 no fecero cadere una funivia in Trentino no il Cermis la famosa strage del Cermis ma la bella presa per il culo che quei due militari deficienti che tirarono giù la funivia furono processati negli Stati Uniti quindi è capito perché siamo una colonia americana perché quando loro fanno reati gli americani in territorio diciamo mausa comiso ok stavo spiegando che quando i militari americani fanno dei reati in Italia non vengono processati in Italia vengono presi processati negli Stati Uniti ovviamente non vengono mai contannati al massimo vengono buttati fuori dall'esercito è vero caro Jag è vero caro Jag io so tutto e poi magicamente di queste persone uccise nella strage del Cermis non ci hanno dato un euro perché era stato io so che sono quasi 2000 fai come vuoi chiudi TikTok perché vuoi chiudere TikTok scusa perché vuoi chiudere TikTok ma vuoi chiudere gli occhi cioè scusami uno che ti apre gli occhi tu lo vuoi chiudere ma stai qui su TikTok e ascolta no l'America ci ha salvati tu sei sicuro che l'America ci ha salvati tu mi porti le prove che l'America ci ha salvati vuoi sapere come ci ha salvato l'America ci ha salvato l'America bombardando Monte Cassino a tappeto ben 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 ci hanno salvato violentando uomini donne e bambini in ciociaria ci hanno salvati alleandosi con la mafia per entrare in Sicilia ma andate a studiare la storia prima di dire che l'America ci ha salvati uno che ti salva ci continua a salvare ci continua a salvare imponendoci una guerra imponendoci le sanzioni ci continua a salvare questo scusa ma tu chi sei non c'hai neanche nome cognome io ti devo stare lì ascoltare te che l'America ci ha salvati allora io ti dico come ci salva l'America imponendoci di fare le sanzioni alla Russia imponendoci di andare in guerra ma non solo in questa guerra in Ucraina in tutte le guerre del Kosovo dell'Iraq ci ha obbligato andare in guerra ci ha obbligato usare i soldi dei cittadini italiani è un altro pazzo allora quando tu dici forza Benito allora ti dico che dovresti andare a studiare la storia che Benito ha mandato i poveri ragazzetti italiani ascolta perché forse impari qualcosa oggi che ha mandato i poveri ragazzetti italiani in guerra in Russia con i camion dell'Africa con gli zoccoli e gli stivali di cartone perché in quei tempi c'era l'autarchia sai cos'è l'autarchia che noi non potevamo comprare la roba da fuori ok va bene no ma nessuno ha salvato nessuno cioè non iniziate a litigare nessuno ha salvato nessuno questi ci hanno invaso hanno preso possesso del territorio hanno messo dei governi fantoccio in modo che ci calmassimo un po' non devi far niente non devi far niente lascia che queste persone dicano stupidaggini in fondo noi siamo democratici no ma questo è un buon segno paola non fare niente non fare niente è un buon segno perché vuol dire che stiamo dicendo la verità infatti questi americani uccidono i nostri bambini per strada perché quella giuliano bravo ha ucciso quel ragazzino in provincia di belluno e non non pagherà qua in italia sai questa giulia bravo non pagherà qua in italia sarà processata magicamente negli stati uniti e dopo neanche una settimana un altro militare americano della base di aviano è stato beccato ubriaco e ha fatto un incidente a questo però gli hanno tolto la patente l'unica cosa che può fare la polizia italiana contro questa gente ritirargli la patente che magicamente dopo un giorno due giorni gliela ridanno e questi sono imbriaghi perché si ubriacano e si drogano i militari lo sappiamo tutti per fare il militare ti devi ubriacare drogarti perché chi è che potrebbe sopportare una vita così indecente di omicidio la loro vita è basata su ammazzare la gente però è basata anche sul non rispetto dei cittadini perché io ti ricordo nella strada nella strage del cermis è stata una scommessa sapete cosa hanno detto vediamo se riusciamo a tagliare quella corda lì della funivia e si sono passati ma allora sei ritardato mentale qui vedi che tu ragioni secondo il sistema orwelliano tu ragioni secondo il sistema orwelliano orwell imponeva che noi odiassimo è una domanda ma tutti i militari sono tutti non ho detto tutti ma la maggior parte sì perché quelli tutti convinti che sia ma vi sembra normale che un essere umano sia convinto che sia giusto fare la guerra o è un pazzo è un drogato è un rincoglionito o è un violento è normale scusa z z omega h allora leggo cosa dice penelope lo avevano fatto tante altre volte legare con gli aerei in quella zona bravissimo poi quando la regione trentino alto adige ha chiesto per favore potete non sorvolare quella zona cosa tu dici a noi e poi noi non siamo una colonia americana che i militari che bravissimo sto leggendo infatti parlavo quella dell'ubriaca della della base di aviano no io vi dico tutta la gente ma qualcuno conosce qualche ragazzo tornato dalle missioni conoscete qualcuno che è tornato dalle missioni in iraq sono tutti cimiti come cazzo fai a vedere morti tutti i giorni come cazzo fai a vedere bambini che muoiono di fame e non dire cazzo che lavoro di merda che faccio come cazzo fai spiegamelo tu caro agente della cia che stai seguendo questa live spiegamelo tu caro agente del mossad spiegamelo tu se è normale io questa live la sto facendo anche per voi per farvi capire che non è normale ammazzare la gente non è normale torturare i bambini in palestina non è normale non è normale spezzare le braccia i bambini che tirano i sassi perché voi militari israeliani state spezzando le braccia dei bambini sì ma non non voglio che le donne odiano dice donne unitevi chiedete la condivisione della terra ma certo perché questo un antico discorso vecchissimo perché qui sono delle fazioni massoni che lo sappiamo tutti morgana e mursia che si stanno combattendo questa terra ma si sono dimenticate che la terra è anche metà delle donne no infatti tutte le società basate sulla guerra sono società patriarcali e tutte le religioni monoteiste sono patriarcali e tutte le religioni monoteiste hanno l'ossessione di gestire l'utero della donna la verginità e chi ne ha più ne metta andiamo avanti così però torniamo al discorso degli americani torniamo al discorso di tutti gli americani russi tutti tutti no la terra è nostra la terra è stata data a noi terra di dio sì però è stata data a noi e come se ci hanno dato tieni ti do questa terra la vuoi custodire bene la terra di dio ma ce l'ha data a noi da custodire ma non solo agli uomini non solo ai pazzi violenti mette anche delle donne cari signori allora o vi decidete a dividere questo mondo con tutti e le risorse gestite da tutti condivise con tutti bianchi neri musulmani palestinesi israeliani chi ne ha più ne metta sì ma anche qui io leggo cosa dice per gli israeliani il resto degli uomini e al di fuori di loro sono schiavi da gestire allora gli israeliani poi secondo me non sono veri ebrei delle 12 tribù e ve lo dimostro non lo dico io andate a cercare tutte le tribù di israele che erano 12 tra l'altro 10 sono scomparse sono rimaste solo due qui mi bloccano hai visto che appena dico queste cose vogliono entrare fate tap 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 vogliono entrare hai visto che disgraziati allora chi ha preso possesso della terra santa chi ha preso possesso della terra santa la tredicesima tribù gli aschenaziti e gli aschenaziti non sono i 12 figli di giacobbe detto israele questa è storia questa è bibbia gli aschenaziti sono ebrei convertiti tra il seicento e l'ottocento dopo cristo ma non so non ce l'ho con loro anzi io adoro tutta la cultura della cabala la cabala non è della 12 tribù la cabala è della tredicesima tribù gli aschenazi ok andatevi a cercare la parola no su internet aschenaziti quindi in realtà io ve l'ho detto ve l'ho detto in privato ma ve lo dico anche in pubblico israele è occupata dalla tredicesima tribù che non sono i discendenti non ho detto che non sono ebrei non sono i discendenti delle 12 di tribù di giacobbe i figli di giacobbe detto israele sono una tribù la tredicesima convertita dopo tra il seicento e l'ottocento per scappare alle persecuzioni cristiane perché i cristiani rompevano il coglione in quei tempi e dicevano che chi non voleva convertirsi al cristianesimo i pagani venivano perseguitati allora questa tribù questi canati cazzari bla 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 si sono convertiti all'ebraismo mantenendo comunque certi rituali certe cose loro e negatelo non negatelo è così e quindi hanno preso possesso della terra santa che non è la terra promessa alle 12 tribù la terra santa è promessa alle 12 tribù non alla tredicesima studiate però eh quando Lavrov vi ha detto che forse gli ebrei scopriranno che non sono ebrei ve l'ha spiegato male e io non sono putiniana perché io vorrei Putin amico non voglio essere schiava di Putin passare dall'invasore americano all'invasore russo intendiamoci ok quindi vi spiego semplicemente questa cosa intelligente se loro non erano i discendenti dei dodici figli di Giacobbe chiamato Israele perché erano la tredicesima tribù i veri discendenti sono i figli della dodicesima tribù e non lo dico io ma secondo una teoria dell'astrologia cabalistica scritta dal rabbino J.C. Dubin vedete che io ho studiato la vostra cosa cari israeliani ho studiato più di voi perché voi non sapete neanche che esiste questo libro del rabbino J.C. Dubin andatelo a cercare su internet astrologia cabalistica del rabbino J.C. Dubin parla dei dodici figli di Israele come i dodici segni zodiacali e parla di un tredicesimo segno che è lo fiucco e buongiorno 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 e lo fiucco in alfabeto ebraico assomiglia molto alla M e la M sembra molto la costellazione dello fiucco lo so che dico delle cose che sembrano difficilissime ma questa live verrà scaricata voi potete riascoltarla sul mio canale youtube seguendo il link in bio e ascoltate 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 finché non capite quindi loro hanno preso possesso di una terra che era stata promessa ai dodici figli di Israele non alla tredicesima tribù perché gli aschenaziti sono la tredicesima tribù questa è verità e ta pravda ve lo dico anche in ebraico e met perché io vi ricordo per alcune società ebraiche le donne non possono neanche studiare la cabalà lo so ma io l'ho studiata lo stesso e la so meglio di voi perché voi indottrinate le persone quello che io so non me l'ha insegnato un rabbino l'ho studiato col mio sangue col mio sudore quindi andatevi a vedere la percentuale di ebrei aschenaziti prima delle persecuzioni di hitler e dopo le persecuzioni di hitler questa è storia non è complotto è storia andatevi a vedere l'origine ebraica la conversione all'ebraismo della tredicesima tribù gli aschenaziti ma non è razzismo allora io vorrei capire e farvi capire che io non ce l'ho con voi non ce l'ho con voi israele non ce l'ho con voi russia non ce l'ho con voi america io voglio solo farvi capire che nascondere la verità è una grande cazzata perché poi viene a galla vorrei solo farvi capire che questa terra c'è stata donato da dio e dagli dei ma dobbiamo essere tutti insieme uniti a tenerla pulita e nella pace buona domenica buona domenica è vero questo è un discorso interessantissimo e sapete qual è la prova che non sono veramente loro i destinatari di quella perché c'è sempre la guerra se foste veramente voi destinatari di quella terra perché l'avete fondata il 14 maggio 1901 e non vado oltre sarebbe che vi fanno ricostruire il tempio di gerusalemme perché questo è scritto nella bibbia la ricostruzione del tempio di salomone e vi ricordo che gli islamici non sono gente buttata là gli islamici sono vostri fratelli più che nostri perché io vi ricordo che ismaele è nato da abramo e dalla schiava agar quindi anche loro sono nostri fratelli non dimenticate quello che c'è scritto nella bibbia perché non è che cancellandolo trasformandolo e riprendendolo diventa come volete voi perché anche loro sono vostri fratelli più che di noi cristiani che io non sono cristiana ma lo ero quindi riflettete sul fatto che loro hanno diritto a stare lì come l'avete voi perché sono figli di abramo ok e forse hanno più quasi più diritto di voi perché loro sono figli di abramo voi di chi siete figli siete figli di una conversione fatta tra il 600 e l'800 pensateci 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 quello che vi sto dicendo perché se foste nel giusto dio manterrebbe la promessa che vi ha fatto di ricostruire il tempio di salomone di gerusalemme perché anch'io voglio quella ricostruzione io voglio la ricostruzione del tempio di salomone perché solo allora avremmo la libertà lo so ma imparate a vivere e a condividere questo mondo con tutti a essere seminatori di pace e non di odio perché proprio orwell dice che l'alimentazione dell'odio tiene vive queste guerre la guerra è stata fondata dal patriarcato nella cultura di ubaid non la sono inventata io andate a vedere che cos'è la cultura di ubaid non sapevano neanche cosa fosse la guerra la guerra è nata col patriarcato con l'ossessione di prendersi le cose degli altri e quella terra non è vostra abbiate il coraggio di dirlo mi viene da piangere potrebbe essere vostra potreste condividerla con la gente ma non con i presupposti di guerra di morte distruzione la terra il mondo è di tutti quello che lui dice dell'eugenetica ha ragione grazie leggo cosa dice penelope quella è la grande rivoluzione l'amore ma non il partito come si dice il ministero dell'amore come diceva orwell perché anche orwell parlava di ministero dell'amore ministero della verità ma dominando l'amore dominando la verità ma forse non sapete una cosa che dio è amore e voi volete dominare dio ma chi siete ma non solo voi anche la chiesa per millenni cioè questa è una bugia che vi hanno raccontato per millenni lo sapete che ci hanno raccontato cazzate bugie per millenni brava la fabian society ci hanno raccontato cazzate bugie per millenni adesso forse non lo sapete ma siamo nell'era dell'acquario che sta passando verso i pesci no questa cosa è il simbolo di quello che è venuto a dirci che dio amore è proprio un pesce ma non quelle che si sono presi poi il vaticano che è un frutto dell'impero romano no 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 i paleocristiani adottavano il pesce non la croce perché la croce è quasi un simbolo che si chiama l'orfeo crocifisso ma una cosa lunghissima dell'antica grecia una cosa antropologica vecchissima ma il vero simbolo dei paleocristiani era un pesce e adesso stiamo entrando siamo nell'era dell'acquario ma stiamo passando verso i pesci loro pensano di continuare a raccontarvi la cazzata che la guerra è giusta le cose sono giuste loro sono gli eredi tutte queste cagate qua ma le bugie tutte le bugie verranno a galla e quando io ho detto che quando tu fai il militare o sei un drogato sei un pazzo sei uno psicopatico sei un ignorante perché solo un ignorante un pazzo può ridere perché non lo dico io ci sono le registrazioni della gente che rideva quando ha battuto la funivia del cermis quando ha visto il sangue il navigatore si è messo a ridere l'ha confessato lui che ha bruciato la scatola nera perché si sentivano le sue risate e non voleva che la NBC facesse sentire le sue risate lo sapete informatevi come ridacchiavano quelli no che hanno con gli elicotteri a Pash in Iraq uccidevano civili ma in Iraq hanno fatto un'opera terribile gli americani hanno fatto una cancel culture hanno provato a cancellare una cultura millenaria perché la cultura irachena è millenaria perché la culla della civiltà è la mesopotamia sapete perché si chiama mesopotamia la terra tra i due fiumi tigre d'eufrati in realtà erano quattro fiumi poi sono una roba biblica questa e loro volevano cancellare cioè la cultura americana di 200 anni voleva cancellare una cultura millenaria hanno tirato anche le bombe lo sapete che hanno inventato l'isis perché l'hanno fatta loro non lo dico io l'ha detto il generale Wesley Clark vostro generaleone il vostro generalone laureata West Point ha dichiarato nel 2015 che guardate tutto scritto su wikipedia che l'isis è stata creata dagli alleati americani contro Hezbollah Libano e non ditemi cazzate c'è scritto su wikipedia eh quindi loro hanno creato questa isis infatti dicevo ma che cazzo questi sono musulmani veri che cazzo dicono erano tutti tatuati chi è musulmano mi può confermare che nell'islam è vietato a tatuarsi ma anche nel cristianesimo anche nell'ebraismo perché c'è scritto nella bibbia nel deuteronomio ok c'è scritto non tatuati non branding però non si può dire perché voi riscrivete la storia riscrivete anche la religione andate su internet a fare proseliti che credono di difendere veramente l'islam invece rincoglionite quei poveri ragazzi poveri ragazzi credete al vostro imam non a questi coglioni che fanno proseliti su internet mi raccomando eh fate attenzione comunque l'opera dell'isis qual è stata ma anche dei talebani distruggere le statue dei buddha distruggere le statue a palmira in siria distruggere le statue degli antichi babilonesi ma non vi è venuto in mente perché certe guerre sono fatte proprio in certi posti come anche in ucraina ma voi lo sapete che in ucraina ci sono le antiche statue della dea madre lo sapete andate a cercare se non credete a me andate a cercare le statue della dea madre nel donbass ci sono le statue della dea madre nel donbass nel donbass proprio dove c'è quella centrale nucleare ci sono le statue il simbolo dell'ucraina è la spiga di grano e il ginoceo capito studiate però quel simbolo bello dell'ucraina e la spiga il grano la terra la dea madre perché l'unione tra dea madre e la terra e il dio padre il cielo e questo simbolo qua che ve lo faccio vedere non vuol dire il mogendavid ebraico questo simbolo qua del triangolo in basso il triangolo in alto è un simbolo che rappresenta il cielo e la terra e il giusto equilibrio tra terra e cielo tra maschile e femminile tra terra dio padre dea madre quindi questa è la verità ma loro vanno a fare la guerra in iraq vanno a fare la guerra in siria vanno a fare la guerra in afghanistan vanno a fare la guerra in ucraina proprio dove ci sono le origini della nostra civiltà perché vogliono fare come norwell 1984 cancellare la nostra storia vi prego chiunque può vada a salvare quelle statue nel donbass perché solo lì c'è scritto la nostra origine non permettete a quattro bifolchi americani con i loro car armati di distruggere queste statue proteggete chiunque può le nasconda sotto terra faccia quello che ma nasconda queste statue della dea madre nel donbass perché solo se sappiamo da dove veniamo possa possiamo sapere l'origine della nostra civiltà e non lo possono distruggere quattro militari ignoranti che si drogano che ridono o che magari lo sapete che adesso la guerra si fa coi droni loro quattro ragazzetti stupidelli laureati e bravissimi in materie tecniche ma in materie umanistiche zero loro con un computer guidano i droni no e poi bombardano l'afghanistan perché a marzo hanno bombardato l'afghanistan anche se l'avevano abbandonato hanno continuato a bombardare civili perché con i droni seduti in un bello studio davanti a un computer di washington qualsiasi della virginia dove cazzo è loro possono guidare e bombardare anche noi anche noi anche noi vi dico che anche negli f 35 quello lì c'è un sistema pensate quanto siamo schiavi dice non siamo schiavi dell'america perché ci ha salvato pensate quanto siamo schiavi dell'america in quei belli aerei bravissimo dice brava vogliono restare la storia come la vecchia civiltà tartaria ok andatevi a cercare anche la civiltà tartaria allora loro negli f 35 hanno messo un dispositivo che solo israele l'ha neutralizzato questo lo so che in questo dispositivo se il tuo aereo va contro l'america si blocca e non siamo schiavi dell'america cioè l'america ci obbliga a comprare questi f 35 del cazzo che già sono eri veramente schifosi come il tornado aeri schifosi perché guardate che io sono stata in kuwait sapete che mi hanno raccontato la storia del kuwait di quei due che sono caduti nella prima guerra del kuwait non mi fate tirare fuori sta storia non mi fate tirare fuori sta storia non mi fate perché ci sono delle storie magiche dietro alla fornitura di armi come anche vi dico che tutte le armi che abbiamo venduto adesso all'ucraina che poi non abbiamo venduto abbiamo regalato e qualcuno si è riempito la pancia però alessandro profumo ci sono degli intrighi delle cose pazzesche ma anche nell'altro governo con no c'era una nave militare nel 2021 che di fincantieri che è stata venduta al dittatore un altro vabbè io prego per te ma chi ti manda la cia non siamo schiavi dell'america dice l'america ci ha salvato perché dopo averci salvato non si è tolta dai coglioni non so chiedo ma uno che vi salva no il vigile del fuoco vi faccio un esempio no lui ha detto ci ha salvato perché il vigile del fuoco dopo che ti ha salvato se ne va a casa sua vigile del fuoco ti salva e se ne va a casa no immagina che il vigile del fuoco dopo che ha salvato casa tua e ha spento l'incendio si siede lì bello bello dice beh adesso però è casa mia è dato che ti ho salvato è lo stesso principio capisci tu che sei mandato dalla cia dal mossad chi ne ha più ne metta a me non mi non me la fate come non me la fate col discorso dell'opposizione controllata sai perché perché voi fate l'opposizione controllata per far venire a galla i ribelli fate questo perché così li identificate uno a uno non dite mai il vostro pensiero a nessuno non ditelo tenetevelo per voi perché questi vanno a vedere uno a uno chi è dicono sì anche noi siamo di lì poi dico anch'io bla 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 buongiorno buongiorno claudio vi fanno tirare fuori la vostra rabbia per usarla poi contro di voi vedi quello è un ribelle quello lì è così è fate attenzione perché veramente ben descritto in orwell 1984 sulla nave non è arrivata la tua notizia allora andatevi cercare la nave venduta nel marzo 2021 da fincantieri al dittatore egiziano al sisi e vi ricordo ma cercate una notizia del tirreno c'è una cosa scritta nei giornali italiani noi abbiamo venduto questa nave al dittatore al sisi c'è quindi il dittatore putin brutto e cattivo ma il dittatore al sisi che ci ha ucciso giulio reggeni no ok va bene ma non solo quella è l'irac e la siria e il kosovo e vietram e la corea guardate la corea ieri un deficiente ha detto ma perché non l'hanno fanno fuori kim ma perché devono fare fuori kim ma kim a casa sua eh ma proprio grazie agli americani corea del nord e corea del sud è divisa grazie a loro hanno fatto l'embargo a cuba cioè questi dicono adesso facciamo un bel embargo ma pensavano che che putin fosse come saddam vi siete fatti due conti sbagliatini eh perché loro sono difensori della democrazia ma quale democrazia che viene a casa mia tagli i cosi capito ma sono tutti i demoni lo leggo usa l'america e il demonio va bene ma in realtà non è lo stato america secondo me ci sono le lobby internazionali che ormai sono fuse con la norvegia piuttosto con soprattutto i paesi frugali eh l'Olanda che praticamente la nazione che ospita più società zozzone perché tutte anche le nostre società hanno diciamo il domicilio fiscale in Olanda andate a cercare sapete che i paesi frugali ecco li bloccano di nuovo fate tap tap perché questo signore schifoso vuole entrare mi vuole abbassare la live ho capito cosa servono questi schifosi perché vogliono bloccare la live allora praticamente l'Olanda i paesi frugali dicono ma li toglie ha speso troppi soldi è cattiva ma guardate proprio i paesi frugali che hanno messo meno soldi in Europa andate a cercare quanti soldi ha messo e quanti soldi abbiamo messo noi nella banca nella bc e nella banca europea andate a cercare andate a cercare perché voi pensate sempre di trovarmi un argomento ma vorrei trovarmi io a faccia a faccia con voi con Soros con Schwab con Schwab che dice che siamo troppe bocche con quell'altro dell'Olanda che dice che noi spendiamo troppo allora se spendiamo troppo dacci indietro i nostri soldi che abbiamo messo perché abbiamo messo più soldi di tutti e voi Olanda avete messo un cazzo dateci indietro cara Goldman Sachs i soldi e pagaci veramente i soldi che dovevi pagare per tutto l'ex gruppo IRI dacci indietro quei soldi va bene ma certo pagate le tasse di Amazon di Google chi ne ha più ne mette pagate 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 no voi inseguite la povera partita IVA e poi voi non pagate le tasse ah già ma siete quelli che inseguite quel poveraccio nella spiaggia coi droni no dice io sono nato in Olanda e conosco gli olandesi premetto che io l'Olanda sono state bellissima una terra meravigliosa si mangia benissimo ma non ce l'ho con gli olandesi vi ricordo che questa è una storia vecchissima sapete cosa sono le compagnie delle indie la compagnia delle indie era la compagnia che trasportava gli schiavi ed era la compagnia delle indie inglese della Gran Bretagna ma c'era anche la compagnia delle indie olandesi cioè dice sono gente cioè leggo cosa dice sono gente che vuole comandare a casa d'altri bravissimo gli olandesi vi ricordo che sono quelli delle compagnie delle indie olandesi hanno la stesso DNA da conquistadores dei britannici i britannici hanno fatto le colonie britanniche ma anche gli olandesi e i belgi hanno fatto le colonie ma come li hanno fatto gli spagnoli però sai grazie alla regina Elisabetta si hanno abbassato la crescita perché il posto degli spagnoli e dei portoghesi l'hanno preso poi grazie alla regina Elisabetta ma la storia è vecchia il sistema è sempre quello è un sistema piratesco è un sistema di rubare l'energia agli altri il sistema di rubare a casa di altri è un vecchio sistema coloniale ok allora chi è che ha vinto il sistema coloniale? l'ha vinto Gandhi ok con la non violenza e con il boicottaggio quindi per vincere questa gente non è prendiamo il forcone e andiamo stupidi perché poi loro vi fanno credere che l'opposizione ma è un'opposizione controllata e violenta allora come li freghiamo? non facciamo più mutui finanziamenti non compriamo più i prodotti Heinz, Kraft, Mendelec, Mendelec, Mendelec lì di quella roba laccia lì compriamo chilometri zero e iniziamo a comprare la roba dal contadino compriamo la roba italiana ma vera andiamo a vedere nelle etichette che la società sia vera facciamo delle liste di società che lavorano veramente in Italia e pagano le tassi in Italia ci vuole tanto? una riforma ecosostenibile capito? così si vince ma non coi fucili con le armi perché lì ricordatevi che loro hanno mano facile ecco sei violento ecco sei aggressivo ecco ecco e allora ci fregano capito? allora iniziate a non andare più a comprare nei supermercati perché guarda che Carrefour è una mi sembra joint venture tra Olanda e Francia andate a vedere chi è proprietario di Carrefour chi è proprietario di LIDEL chi è proprietario di PENEMENT di tutte queste società ci sono anche i gruppi di acquisto delle cose ecologiche su internet lo so è un po' una pista ma poi quando siete entrati nel sistema è più facile facciamo dei gruppi d'acquisto compriamo roba italiana aiutiamo i contadini che stanno per morire da fame gli allevatori e coltivatori sardi pugliesi, piemontesi, veneti, toscani capito? ma guardate che la rivoluzione ecologica vera parte da voi non da loro quella che vi vogliono fare la transazione ecologica con la banca dell'idrogeno è una gran stronzata perché loro vogliono produrre idrogeno col metano informatevi chiedete i progetti dell'ENI che l'ENI non è più italiana perché si sono seccati pure il povero Mattei perché quando Mattei voleva cercare la libertà l'hanno fatto fuori con un bel incidente d'aereo e si sono appropriati delle nostre risorse dell'ENI andate a cercare tutto quello che vi ho detto non credete a me cercatelo usate il vostro cervello usate il vostro cervello ok? un bacione grande e vi auguro una buona domenica a tutti e come si dice in indiano Namaste Namaste è un saluto che vuol dire saluto l'anima che c'è in te così so di salutare solo quelli che hanno l'anima un bacione un bacione un bacione Volevo fare un Errata Corridge di fine video che la città che nominavo diciamo questa città che sta attuando questo progetto diciamo molto bello è Marina Leda in Andalusia Spagna non in Sardegna ho voluto mettere questa postilla per onestà intellettuale sarebbe stato bello che una città della Sardegna lo facesse ma per onestà intellettuale dato che questa assonanza era molto simile diciamo all'assonanza sarda perché molte città hanno questa invece Marina Leda è una città spagnola dell'Andalusia quindi il mio Errata Corridge questa città utopica che dove si pagano le case 15 euro al mese si contribuisce è un sogno che stanno attuando in Spagna un bacione a tutti una domenica la domenica